Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, bentornati per quelli che mi seguono già. Andiamo avanti anche oggi con i nuovi tutorial dedicati alla primavera e dalla Pasqua. Nello specifico volevo mostrarvi come creare in modo facile e veloce un piccolo cestino porta ovetti utilizzando la tecnica che abbiamo imparato nel tutorial precedente, ovvero il finto legno. Partiamo subito. Ci serve del feltro grosso 3 mm, io sto utilizzando il colore panna nuvolato. Ho già preparato un rettangolo della misura 5 x 27 cm. Inoltre, in questa prima fase, ci servirà un rettangolino dello stesso colore della misura 6 x 1 cm. Dovremmo andare ad incollare le due estremità in questo modo per creare il giro del nostro cestino. Siccome effettuare questo tipo di incollaggi al volo è sempre molto difficoltoso, ho pensato a un piccolo trucchetto. Quindi pieghiamo in questo modo la nostra striscia, ci aiutiamo con delle mollette da bucato e lo teniamo chiuso in questo modo, cercando di unire il più possibile le due estremità. Andremo adesso ad incollare questo rettangolino sopra l'aggiunta. Direi che è un modo più facile rispetto a farlo in corsa. Fate sporgere il rettangolino soltanto da un lato, non dall'altro. Siccome deve fare presa, io ho già preparato precedentemente, eccolo qua, ovviamente poi lo riaprite, torna a mo' di cerchio, ed è stato incollato con l'aggiunta verso l'interno. Adesso dovremo andare a creare il nostro cestino. Quindi ho già preparato un cerchio dello stesso feltro 3 mm, diametro 9 cm. Dovremmo andare ad incollare adesso il nostro girocerchio sopra la base. Quindi ecco la facilità di averlo già creato in precedenza e di essere pronti invece che doverlo andare ad incollare nel mentre che è sempre difficoltoso come cosa. Adesso io andrò a mettere della colla a caldo lungo tutto il bordo inferiore. Siate un po' abbondanti. E lo andrò a posizionare sul mio cerchio, cercando di essere il più precisa possibile, ovviamente. Comunque, appena posizionato, riusciamo ancora a spostare il feltro, perché la colla non ha ancora fatto presa, e riusciamo a essere ancora più precisi. Perfetto! Ecco qua il nostro cestino. Se sbavate, in questo caso, niente paura, perché andremo a ricoprire tutto quanto il giro con questi ritagli di feltro per creare effetto tipo legno. Dunque, io adesso li ho già preparati, sempre in bicolore, quindi panna nuvolato come il cestino stesso e una tonalità più scura che è il crema nuvolato. Le misure sono due per dare un attimo il senso irregolare, quindi 6x1 e 5x1. Poi comunque fate a piacere vostro. Dovremmo andare ad incollarle adesso su tutto quanto il nostro giro. Quindi io procedo, metto la colla e alterno i colori e le grandezze. Ovviamente, ripeto, a gusto vostro. Io vado avanti. Abbiamo quasi terminato. Ecco che ne ho un altro qui. e vado a chiudere il tutto. Ovviamente, l'ultimo rettangolino in caso adattatelo allo spazio che vi è rimasto. In questo caso abbiamo avuto fortuna ed è proprio azzeccato. Adesso, come nel tutorial per il fuoriporta, io andrò a tagliare via e abbassare le altezze dei vari rettangolini per dare, appunto, ancora un po' più il senso irregolare come fossero dei tronchetti di legno. Faccio la stessa cosa anche nella parte inferiore. Ovviamente, anche questo è facoltativo. Abbassiamo un po' anche qui e direi che ci siamo. Adesso ci andremo a mettere il manico. Preparato un'altra striscia di feltro questa volta a contrasto quindi crema nuvolato è la tonalità più scura. Questa striscia misura 2 cm per 29 cm. Andrò ad applicarla. Ecco qui, piccolo trucchetto anche se l'aggiunta si vede veramente poco aspettate che la trovo è quella qui che perché effettivamente si vede veramente pochissimo io voglio che non si veda proprio e quindi invece di metterla magari davanti o dietro io la metterò da un lato all'altezza di dove io andrò a fissare il mio manichetto in questo modo. Quindi colla a caldo un punto e un punto e vado a fissarlo più o meno andando giù di 2 cm ecco poi preferenza vostra se volete che il manico sia un po' più alto un po' più basso non importa. Perfetto! Il nostro cestino è quasi terminato passiamo alla decorazione qui ho preparato allora un po' di nastro tessuto non tessuto stampato a quadretti sono circa 30-33 cm a piacere vostro un po' di raso fino a 3 mm e 3 di lunghezza 55-60 cm anche qui a piacere vostro farò un fiocchetto al volo piccolino ovviamente perché lo spazio è quel che è stringo al centro vado a legare con il mio raso che metto a misura e faccio 2 nodi perfetto taglio già di sbiego il nastrino ed ora andrò ad incollarlo qui da un lato vicino al manico come potete vedere in questo caso io qui ho un rettangolino alto che però disturba il mio incollaggio quindi io vado ad abbassarlo e anche quello un po' davanti perfetto in modo da poter incollare bene il fiocchetto procedo quindi colla e applico ecco meglio in questa posizione qui finché fa presa andiamo oltre allora per decorare i manici ho pensato a due bottoncini di legno misura piccola ovviamente anche questi facoltativi vado a metterne uno parte per parte perfetto penso che abbia fatto presa ci siamo farò l'ultima asola con il raso rimasto quindi un fiocchetto molto semplice metto a misura che qui non me l'ha preso dritto sapete che sono pignola io poi piccoli coniglietti in feltro già pronti laserati andrò ad incollarlo al centro del mio fiocco in questo modo e il mio cestino praticamente è pronto vado a riempirlo con un po' di paglietta che sia color naturale o quella verde io comunque poi ho già preparato anche altri esempi e abbinamenti di colore così da darvi un'idea in più e siccome non ho gli uvetti di cioccolata non ancora come decorazione userò questi qui che sono in polistirolo ovviamente decorativi è giusto per darvi un'idea come dimensione io direi che qui ci staranno un 10 ovetti anche 15 perché comunque il cestino è bello fondo perfetto direi che abbiamo terminato vi faccio vedere un po' di varianti colore quindi questo qui era molto neutro sul marroncino classico verde pasquale un altro a tema sempre neutro legno però con il coneglieto del colore diverso super acceso color giallo con i dettagli arancio e perché no sta arrivando anche un verde un po' più tenue con il fiocchetto rosa bene ragazze spero che vi sia piaciuta la mia idea farò anche il video della versione più grande leggermente modificata vi ricordo che trovate tutti i materiali che utilizzano i miei video sul nostro e-commerce il diamantashop.com e tutte le misure e riferimenti qui sotto nell'info box grazie mille per aver guardato il video ciao a tutti e alla prossima ciao a tutti